Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, consueto, classico, usuale disordine della mia libreria. Allora, per la serie Dediche e richieste, mi è stato chiesto di parlare della vicenda della corazzata Giulio Cesare, detta anche Novorossisk, una delle corazzate rimodernate classe Cavour che fu passata nel dopoguerra ai sovietici in conto riparazioni danni di guerra. Perché, insomma, signori, siamo sinceri, noi la guerra ai russi l'avevamo dichiarata, noi italiani la guerra l'abbiamo persa e noi, ahimè, siamo andati a rompere, siamo andati a sfasciare casa altrui e il padrone di casa ha chiesto i danni che ci volete fare. Una delle navi passate, diciamo che per, come dire, per questo conto riparazioni dei danni di guerra, i russi ottennero diverse navi italiane, alcuni cacciatorpedinieri, alcuni mercantili e soprattutto la corazzata Giulio Cesare. La corazzata Giulio Cesare ebbe, come tutto il naviglio maggiore italiano, fece una guerra decisamente poco gloriosa, dato che le sue armi, i suoi cannoni, non c'entrarono mai un bersaglio, dato che per la maggior parte del tempo rimase confinata in porto con le altre corazzate. Ma giungiamo a parlare della cosa più interessante, cioè il suo affondamento. Allora, l'affondamento della corazzata Giulio Cesare o Novorossysk, come era stata ribattezzata quando fu consegnata ai russi, è un argomento estremamente dibattuto. C'è chi parla, allora mettiamola così. Qualcuno crede, anzi vuole credere alla storiella che sia stata affondata nel porto di Sebastopoli da ex palombari della decima mass che avrebbero voluto, come dire, vendicare l'onore d'Italia affondando in porto la Giulio Cesare Novorossysk. Va bene, va bene, va bene, crediamoci, crediamoci pure, se vogliamo crederci, ma io vorrei solo sapere una cosa, palombari della decima mass nel 1955, perché ricordiamoci, la nave affondò il giorno 28 ottobre 1955. La guerra era finita già da dieci anni. La Giulio Cesare era una nave della prima guerra mondiale rimodernata negli anni 30. E il valore bellico di un simile rottame, ve lo lascio immaginare, anche perché quando noi la consegniamo ai russi nel 1948 la Giulio Cesare era già in condizioni decisamente precarie, ok? E che cosa accade? Cioè praticamente il 28 ottobre 1955 la nave venne ormeggiata ad una boa nella baia di Sebastopoli a 300 metri dalla riva di fronte a un ospedale. A luna e mezza di notte del 29 ottobre un'esplosione della potenza stimata di 1200 chili di tritolo, mica poco eh, squarciò tutti i ponti della corazzatura dal ponte inferiore fino al ponte del castello di prua, aprendo uno squarcio sulla carena di oltre 340 metri quadrati su entrambi i lati della chiglia per 22 metri di lunghezza, insomma mica poco. In tre minuti a 110 metri dalla riva la nave si inclinò, le acque erano profonde 17 metri con ulteriori 30 metri di fango viscoso sul fondo della baia di Sebastopoli. Allora, a bordo della Novorossisq, o Giulio Cesare che dir si voglia, c'erano circa mille marirai, una parte dell'equipaggio e 200 cadetti perché la Novorossisq era una nave scuola. Si calcola che al momento dell'esplosione persero la vita dai 150 ai 175 uomini dell'equipaggio che si trovavano nella zona dell'esplosione. Sul ponte del castello di prua il foro misurava 14 metri per 4 e l'esplosione fu talmente forte da essere registrata persino dai sismografi della Crimea. Allora, fu fatto un tentativo di rimorchiarla ma alle due mezza la nave si inclinò e dopo dieci minuti praticamente lo sbandamento e l'inclinazione aumentarono. Alle quattro e mezza di notte circa, circa due ore e tre quarti, circa tre ore dopo l'esplosione, la nave si capovolse e rimase 18 ore in quella posizione con l'albero piantato sul fondale e centinaia di marinai rimasero intrappolati all'interno. Poveracci, che vi devo dire? Allora, ci furono innanzitutto numerosi errori da parte dei comandanti sovietici. La nave non fu portata subito, non fu rimorchiata subito su bassi fondali per impedire l'affondamento, non furono prese decisioni rapide per evitare il capovolgimento della nave e i soccorritori si dimostrarono estremamente impreparati, ma del resto si sa bene. Nelle dittature, in tutte le dittature, c'è una sola cosa che funziona bene, la polizia segreta, ma tu con la polizia segreta non ci vai a liberare dei marinai prisionieri in una corazzata rovesciata, detta così come. E purtroppo molti marinai della marina sovietica rimasero prigionieri tra le lamiere della Giulio Cesare facendo una fine terribile, morendo, facendo una morte atroce. L'affondamento causò la morte di 604 marinai, tra cui anche alcuni dei soccorritori. Il Cremlino disse che in un primo momento la tragedia era stata causata da alcuni incendi accidentali a bordo, ma c'era la guerra fredda e il destino, insomma, quello che accadde alla Novorossisk rimase avvolto nell'oscurità fino al momento della desecretazione degli archivi alla fine degli anni 80 circa, quando Gorbachev e Yeltsin desecretarono gran parte dei documenti contenuti negli archivi di Mosca. Il discorso è semplicemente questo qua. Che cosa accadde alla Novorossisk? Il 17 novembre del 55 una commissione di inchiesta presentò le sue conclusioni al comitato centrale del PICUS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Si concluse che la causa più probabile del disastro fu l'esplosione esterna subacquea senza contatto di una carica equivalente a 1000-1200 kg di tritolo, probabilmente una RMH, una mina magnetica tedesca, messa, deposta dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e rimasta sul fondale fangoso. E qui, e qui, c'era di dire subito una cosa. Vi direte, ma come? I russi non avevano dragato il porto, i russi avevano le mine magnetiche tedesche ancora nei fondali del porto. Allora, il discorso è semplicemente questo. Tutt'oggi, e parlo insomma degli anni 2000 del XXI secolo, quando si dragano i porti di La Spezia, di Genova, di Trieste, di Ancona, spesso e volentieri, durante i lavori di dragaggio, di pulizia dei fondali dei porti italiani, saltano fuori a distanza di quasi 80 anni dalla fine della guerra, mine e bombe di ogni tipo. Sì, sì, perché, come dire, capita, succede. L'Italia è stata bombardata per ogni verso e per ogni senso durante la guerra, è ideologico e naturale, che delle mine, delle bombe, siano affondate nei fanghi dei porti, porti magari in zone dove le navi non attraccano e che sono rimaste lì, zitte e mute, per 75 anni e passa. Succede, capita. È successo anche, se non ricordo male, lo scorso anno alla Spezia, che hanno trovato tre bombe d'aereo e una mina durante i lavori di dragaggio di una zona del porto. E quelle mine erano rimaste lì per 75 anni, se vogliamo. Non è la prima volta. Cioè, insomma, quando poi, c'è anche da dire che quando poi i russi dragarono finalmente per bene tutta la rada di Sebastopoli, tirarono fuori almeno un'altra ventina di mine tedesche e di bombe d'aereo. Perché? Perché non si era pensato con leggerezza, cioè, insomma, non si era pensato a dragare meglio i fondali del porto. Sembra una cavolata, ma in realtà fu una leggerezza enorme che costò la vita ai marinai della Giulio Cesare o un ovo rossisco, che dir si voglia, e che causò la distruzione della corazzata. Allora, secondo quello che si evince dai documenti sovietici desecretati e disponibili, si trattò di un mix di non curanza, di leggerezza e di trascuratezza. Erano gli anni in cui la sovietica stava iniziando, aveva iniziato il suo tumultuoso programma di sviluppo, in cui stava diventando, in cui la marina sovietica stava diventando una marina moderna. E le risorse, le energie della marina erano destinate essenzialmente alla costruzione e allo sviluppo di nuove navi e all'addestramento dei marinai per queste nuove unità, per queste nuove navi. E quindi la manutenzione, per quanto possa sembrare assurdo, non si pensò a dragare per bene la rada di Sebastopoli. Con il risultato che la sera in cui la Giulio Cesare, Novorossisk fu ormeggiata in un posto diverso dal solito, fece detonare la mina magnetica tedesca che giaceva lì da circa dieci anni. E purtroppo succede così. Sembra una cazzata, ma oggettivamente è quello che molto probabilmente accadde. Diversi documenti a proposito della Novorossisk non sono ancora disponibili. E con Putin al potere, Dio solo sa quando lo saranno, ma, 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 la banale verità della negligenza con cui fu effettuato il dragaggio del porto di Sebastopoli è molto più plausibile della fantasiosa storiella degli ex palombari della decima mas che arrivano nella rada di Sebastopoli per mettere una mina e far saltare in aria la Novorossisk. Perché questa storia non sta in piedi? Come sempre vi rimando alla geografia, signori. Prendete un accidente di cartina del Mar Nero. Prendete un accidente di cartina del Mar Nero in cui ci sia la Crimea, in cui ci sia la rada di Sebastopoli. Mi spiegate in piena guerra fredda in un mare chiuso come il Mar Nero, ok? Come potevano arrivare a Sebastopoli degli ex palombari della decima mas senza una nave d'appoggio? Come ci sono arrivati? Quale nave d'appoggio avevano? Dove erano passati? Signori, il Mar Nero è un mare chiuso. Praticamente i russi all'epoca avevano occhi e orecchie dappertutto. Il Bosforo e i Dardanelli sono due colli di bottiglia dai quali è praticamente impossibile passare senza farsi accorgere. Insomma, come sono passati nel Mar Nero? Come sono arrivati nel Mar Nero? Come sono entrati a Sebastopoli? Qual era la loro nave d'appoggio? Come sono riusciti a fare questa cosa senza farsi beccare? E poi ricordiamoci anche una cosa. Per fare una cosa simile bisogna essere estremamente preparati e ben addestrati. Qui si dice ex palombari della decima mas che hanno affondato la nuova Rossisca nella rada di Sebastopoli per salvare l'onore d'Italia, perché stavano per trasformarla in una nave lanciamissili. La Giulio Cesare era una nave, era poco più di un rottame galleggiante, era una nave del 1914, rimodernata negli anni 30, che era stata consegnata ai russi in condizioni disastrose, perché non c'era stata più praticamente manutenzione. Dalla fine della guerra fino al 1948, quando fu consegnata ai russi, non c'era più stata manutenzione. Accidenti! voi potete immaginarvi cosa può succedere a un sistema estremamente complesso come una nave nel mare che è salato e corrode. Vi posso lasciare immaginare le condizioni delle macchine, dei motori, dell'artiglieria, dei circuiti e degli impianti elettrici. Una nave, insomma una nave, soprattutto una nave così complessa e complicata come la Giulio Cesare, aveva bisogno di una manutenzione costante e continua e dal 1945 al 1948 furono fatti soltanto alcuni elementari interventi di manutenzione dell'impianto elettrico, niente di più. Quindi quando i russi presero in consegna la Novorossiysk, presero in consegna poco più di un rottame, che di fatti fu usata essenzialmente come nave scuola. Perché? Perché la marina sovietica, che era agli inizi dei progetti di sviluppo, dei progetti di ingrandimento della propria forza, aveva bisogno di una nave scuola per addestrare i marinai, gli ufficiali, i sottufficiali alla conduzione, alla vita, all'uso di una nave di grandi dimensioni. A questo serviva la Novorossiysk. Ma la cosa, cioè ripeto, è un semplice esercizio di logica. Vi do un compitino a casa, cioè vi basta su una cosa, prendete una cartina geografica, guardate una cartina geografica del Mar Nero. All'epoca, nel 1955, il Mar Nero era un lago interno dell'Unione Sovietica. Va bene, la Turchia era un paese nato, va bene, il passaggio dei Dardanelli era controllato dai Turchi, va bene, ma lo sappiamo bene che all'epoca il KGB, che all'epoca l'Unione Sovietica aveva occhi e orecchie dovunque e mi volete far credere che non controllavano qualunque cosa passasse nello stretto dei Dardanelli? Era uno dei posti più sorvegliati al mondo. Ecco, siamo sinceri. E ripeto, cosa usi come nave appoggio? Cosa usi? Un mercantile? Ah, e dove va questo mercantile? Cioè, ripeto, in un mare chiuso come il Mar Nero, che, ripeto, era un lago interno del patto di Varsavia, Romania, Bulgaria, Unione Sovietica. Era controllato in maniera praticamente esclusiva dal patto di Varsavia il Mar Nero. Eh, signori, ragionate un attimo, per cortesia. Come ci entravi nel Mar Nero? Come ce li portavi gli incursori che avrebbero dovuto affondare la Novorossisk? E poi mettiamoci anche una cosa, cioè diciamoci anche la verità. Questi militi, ex militi, questi ex palombari della decima mass che prendono, vanno ad affondare la Novorossisk, ma se li beccano, che cacchio succede? Cioè, voi ve l'immaginate? La Novorossisk salta per aria, qualche cosa va storto e i palombari e gli ex palombari della decima mass che hanno messo la bomba facendo saltare la corazzata ex italiana nella base sovietica, vengono catturati? Voi lo sapete che cosa poteva succedere? Altro che rappresaglia nucleare? Altro che cosacchi che abbevano i loro cavalli nelle fontane di piazza San Pietro? I russi sarebbero arrivati qua in Italia, ci avrebbero letteralmente spianato il culo con gli americani e tutti i paesi della Nato che avrebbero detto eh sì, i russi sono stati severi ma giusti. Perché? Perché avremmo combinato una enorme cazzata. Allora, se volete credere alla romantica impresa dei vecchi incursori della decima mass che si intruffano nella rada di Sebastopoli per far saltare la Novorossisk, che i motivi non si sa perché l'hanno fatta saltare, perché noi abbiamo consegnato la Giulio Cesare ai russi con i doppi fondi pieni di esplosivo. Ah ma non è possibile che ci fossero le mine nella base sovietica eccetera eccetera eccetera. Allora, signori, questi sono discorsi che lasciano semplicemente il tempo che trovano. Le prove e le evidenze delle prove vengono dagli archivi sovietici. I sovietici hanno ammesso a loro stessi, o torto collo diciamoci la verità, la sorte reale della Novorossisk rimase segreta fino agli anni 80, ripeto, ma i documenti ufficiali sovietici parlavano e parlano estremamente chiaro. La Novorossisk, o Giulio Cesare che dir si voglia, saltò per aria perché una mina tedesca da 1200 chili era rimasta depositata sul fondo e disgraziatamente quella sera la Novorossisk fu ormeggiata in una zona diversa dal solito. In una zona dove oltre alla mina che la fece saltare per aria ce n'erano altre almeno sei o sette e quando fecero i dragaggi del porto dopo la tragedia i russi ne tirano fuori almeno un'altra cinquantina tra mine e bombe. Perché? Perché non si era pensato a dragare con accuratezza il porto di Sebastopoli? Perché gli ordigni erano sprofondati nei 30 metri di fangoli maccioso che erano, che occupavano il fondo, il fondale del porto di Sebastopoli. Tutto qua. Quindi siamo sinceri, a costo di spezzare tanti cuori, io, opinione mia personale, ripeto, ma me la sono fatta in base a quel poco che ne posso capire. La Novorossisk o Giulio Cesare fu distrutta da una malaugurata e sfortunata concatenazione di eventi. La mina lasciata lì dai tedeschi dopo l'evacuazione di Sebastopoli dopo la guerra. La carenza, la non curanza, l'incuria della base da parte dei comandanti che non effettuarono mai dragaggi accurati e la sfiga che quella sera la Novorossisk fosse ormeggiata in un posto diverso dal solito, facendo scattare il detonatore magnetico di una mina tedesca RMH da 1200 kg. Tutto qua. Niente di più, niente di meno. La Giulio Cesare, o Novorossisk che dir si voglia, fu vittima di una sfigatissima concatenazione di eventi. Colpe umane, l'incuria dell'uomo, la trascuratezza dell'uomo, la mina rimasta sul fondale, la sfiga di ormeggiare in un posto diverso dal solito. Quindi al 99.9% ad essere molto generosi, non ci fu un commando di ex palombari della decima massa ad affondare quella corazzata, ma soltanto l'incuria delle autorità portuali di Sebastopoli, la sfiga di un ormeggio diverso dal solito e stop, niente altro, signori, niente altro. Inutile cercare verità nascoste quando la verità molto banalmente è quella più semplice e ce l'abbiamo tutti gli occhi. Ripeto, ripeto, qua in Italia, qua in Italia, qua in Italia, spesso e volentieri quando si dragano i porti di Genova, di La Spezia, di Taranto, di Bari, di Napoli, quando si dragano i maggiori porti italiani, qualche ordigno bellico della seconda guerra mondiale è matematico che salti fuori. E volete che ordigni bellici non fossero finiti nel fango, nei 30 metri di fango e limo del fondale del porto di Sebastopoli? Signori, ragionateci un attimo e fate due più due. Se poi volete continuare a credere alla storiella degli eroici ex palombari della Decima Mas che vanno lì ad affondare la Nuova Rossis per vendicare l'onore d'Italia, rischiando una guerra atomica, rischiando che i russi ci arrivassero in casa facendoci il culo a strisce senza che inglesi, americani, francesi e tedeschi azzardassero a muovere un dito perché noi non c'entrammo niente, hanno fatto tutto loro, siete severi ma giusti avrebbero detto gli altri, i nostri alleati ai russi. Insomma, siamo sinceri, usate un pochino alla logica quando si parla di certe cose. La Nuova Rossis fu vittima della sfiga, fu vittima dell'incuria delle strutture portuali in cui era ormeggiata, fu vittima della trascuratezza degli uomini, fu vittima del caso. Una minna magnetica tedesca lasciata lì da più di dieci anni che detonò al momento dell'arrivo di quella nave nel suo nuovo ormeggio. Ah, una cosa, una cosa. A chi dice che erano passati più di dieci anni come faceva ancora funzionare? Vi dico solo una cosa. Nei primi anni Ottanta una nave turca fu affondata nei Caraibi da un'esplosione. Le indagini stabilirono che a far saltare per aria quella nave, fu una mina tedesca della Prima Guerra Mondiale, depositata, ironia della sorte, proprio all'ingresso del Bosforo. Quella mina ruppe gli ormeggi così, il gioco delle correnti la trascinò per il Mediterraneo, la fece uscire fuori da Gibilterra, le correnti la portarono fino nei Caraibi dove, nei primi anni Ottanta, fece saltare per aria una nave mercantile turca. Accade anche questo. E volete che dopo solo dieci anni una mina magnetica tedesca non fosse ancora efficiente? Sapete bene, sono marchigiano, vivo nei pressi di Fano. Lo scorso anno è stata fatta detonare a Fano una bomba, una bomba d'aereo da 500 kg ritrovata durante dei lavori in spiaggia. E il botto lo ha fatto e lo ha fatto anche bello grosso. Quindi la teoria più plausibile sull'affondamento della Giulio Cesare è quella, è quella della mina, è quella ufficiale della mina dimenticata sul fondale, della mina tedesca non dragata dal fondale dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo la fine dell'occupazione tedesca. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre aspetto i vostri commenti, come sempre aspetto le vostre considerazioni sui commenti, aspetto le vostre aggiunte a quanto ho detto. Vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, forza Ajax come sempre e arrivederci al mio prossimo video. Ciao!